Allora Godeas, la soddisfazione del gol è un secondo tempo in cui ti sei sbloccato? L'importante era comunque fare risultato, insomma a mia età, un gol più o il meno non è che mi cambi la vita, più che altro avevamo partito con buone intenzioni, abbiamo fatto un po' troppa fatica forse al primo tempo, però poi per fortuna Franchini ha trovato un grande gol e poi subito dopo la doppiata. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio anche se abbiamo avuto un attimino di difficoltà dopo l'Euro 2-1, calcolando che siamo insieme, che io sono a Venezia da otto giorni, la maggior parte è arrivata veramente nell'arco delle ultime dieci giornate, penso che più di così non si potesse pretendere. Infatti hai detto bene te, è stato un primo tempo in cui di positivo c'è stata la doppiata di Franchini, e come in generale lo vedi questa Unione Venezia? A livello di qualità e di giocatori sicuramente i giocatori sono ottimi e ci sono tante alternative, ci vorrà del tempo perché siamo insieme veramente da pochissimo, sono arrivati altri due ragazzi nell'arco delle ultime due giornate, per cui ci vuole un po' di pazienza, se nel frattempo riusciamo a fare anche qualche risultato come oggi siamo ancora più contenti.